il nostro eroe di oggi che mi è successo in grigna e tira nocce ue bagai è arrivato ne abbiamo un'altra o si va giù a piedi no no è arrivato dio dai sozzi preparati mettiti in prusica mascia ma fin dove devi scendere libera vai vai hai visto il mio mascio? ecco la non è che ne ho sempre risparmi poffi è andato tutto bagai come boh fammi controllare il bagai qua ma cosa che non va fammi guardare ma si è giusto vai fammi vedere aspetta se non c'è questo qua quante vie avete fatto è la di albertini ma non è quattro tiri? ciao ragazzi ciao 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 è stato bellissimo eh dai John Braga rapido vai Usel Usel Mosche tra l'imbrago traffeggiù ho fatto tutto giusto dai vai giù ci piace adesso c'è i colori che sono tritati stavo facendo il video io eh adesso devo metterci la musica vai vai andate andate vai per qui io dita 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 vai per qui vieni e... chi pensa ciascuno Non, non, non.